ariete finalmente un attimo di respiro anche per voi sempre così presi e pieni di carica rilassatevi cercate di recuperare energie e non soltanto quelle fisiche soffermatevi un pochino anche a pensare non avrete un utile non è vero certe pause possono giovare più del fare con il partner buona armonia toro date sfogo alla vostra pigrizia se potete se non avete preso precedenti impegni poltrite fino a stancarvi già sapete che è piacevole ma oggi scoprirete che lo è ancora di più gemelli troppe cose nello stesso tempo non si possono fare viaggiare e contemporaneamente stare a letto vi pare possibile oppure lavorare e nello stesso tempo incontrarsi con gli amici o badare al partner oggi le stelle vi assistono pertanto potrete comunque permettervi molto cancro buona giornata e cielo tutto sommato favorevole favoriti i contatti gli incontri le pubbliche e private relazioni siate disponibili voi per primi e vedrete che anche gli altri dimostreranno la loro voglia di stare con voi leone non imprecate alla malasorte se oggi ciò che vorreste potrà sfuggirvi per un soffio vi siete chiesti se i vostri piani li avete davvero preparati con la cura necessaria o come non di rado vi capita vi siete limitati a dare il comando disinteressandovi poi del resto cercate di essere più diplomatici con il vostro partner vergine gran giornata per voi avrete molte energie e molta voglia di fare che vi consentirà di conseguire molti successi bilancia discrita giornata ma molto probabilmente dovrete rivedere i particolari del vostro programma le stelle infatti non appaiono favorevoli alle relazioni ai contatti per cui non meravigliatevi se all'improvviso qualche ostacolo si opporrà ai vostri piani col partner normale routine salvo per chi è in lite scorpione attenzione alle parole sapete benissimo che possono ferire come e più di una vera arma il pericolo è che da un appunto malizioso possono scaturire una serie di reazioni tali da farvi ritrovare impantanati in una situazione non facile da districare attenzione sagittario può darsi che dobbiate prendere una decisione che vi costerà qualche rinuncia ma è necessario farla per non rischiare di peggiorare una situazione le stelle sembrano prendere di mira il settore affettivo sentimentale quindi nulla di più facile che la grana riguardi proprio i rapporti con chi amate capricorno giornata di tran tran ma serena quindi da considerare tutto sommato positiva approfittate per dare un po di riposo ai vostri affari e rilassarvi ma anche una bella passeggiata può essere indicata acquario attenti a non sbagliare strada la fretta è una cattiva consigliera ve lo diciamo perché oggi le stelle vi daranno molte energie e voglie di attività ma nello stesso tempo la vostra mente non sarà così pronta e lucida come dovrebbe dunque prudenza specialmente nel lavoro pesci non tiratevi la zappa sui piedi da soli lasciate che siano semmai gli altri a toccare certi argomenti in questo caso avrete buon gioco e rintuzzerete eventuali attacchi comunque oggi le stelle vi sono abbastanza favorevoli tanto da permettervi una previsione di serenità